ben ritrovati lettura del commetto il vangelo di don luigi maria epicoco di lunedì 19 giugno 2023 ci è abbastanza facile reagire davanti all'atteggiamento degli altri lasciandoci influenzare dal loro bene o dal loro male se uno si comporta bene io mi comporto bene se uno si comporta male io mi comporto male ma la domanda vera non riguarda le nostre reazioni bensì la nostra identità chi sono io al di là di ciò che gli altri tirano fuori da me gesù sembra aiutarci nel vangelo di oggi dicendo ma io vi dico di non opporvi al malvagio anzi se uno ti da uno schiaffo sulla guancia destra tu porgigliela anche l'altra porgere l'altra guancia non è un segno di di debolezza ma di liberazione solo chi ha il coraggio di non reagire ma di fare esattamente il contrario può dirsi davvero libero libero è non chi ha innanzitutto la forza di difendersi ma chi nonostante abbia la forza di difendersi decide di attuare una politica totalmente diversa il male lo si sconfigge sbaragliandolo porgere l'altra guancia è un atto straordinariamente imprevedibile in un mondo che vive delle logiche di reazione chi fa qualcosa di diverso rompe questo circuito e fa nascere una situazione completamente nuova l'invito del vangelo è chiaro se vuoi vincere il male non usare le sue stesse armi gesù stesso ha fatto così si è comportato in maniera inaspettata davanti al male ricevuto ha saputo perdonare rispondere tacere reagire senza mai far comandare la violenza ricevuta l'odio inflitto e le umilazioni seguite il porgere l'altra guancia è un gesto che ha creativo non remissivo sta sempre scritto da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle in un mondo chi ci insegna solo a prendere e a pretendere gesù ci chiede di dare e di non rimanere indifferenti davanti a chi ha di bisogno infatti la cosa peggiore per un uomo è vedersi girare le spalle ma è sempre difficile accorgersi degli altri quando si passa la vita solo a reclamare i propri diritti e a difendere le proprie pretese il vangelo ci dice che quello che vorremmo avere dobbiamo essere disposti a darlo noi stessi per primi buona giornata e che dio sia con tutti voi grazie a tutti